Daniel Franke, ieri una sconfitta tosta contro l'Asiago, domani però è un altro giorno e Bolzano torna a casa, serve una gran partita. Sì, ieri siamo partiti malissimo, non abbiamo giocato 60 minuti, non sono stati pronti e abbiamo preso il 4-3, il 17 secondi alla fine. Una partita proprio buttata via, devo dire, però ci abbiamo parlato, abbiamo messo tutta e domani si va avanti contro i Klagenfurt. Klagenfurt è una squadra che è stata scomoda negli ultimi anni, cosa servirà per vincere? Dobbiamo giocare 60 minuti, dobbiamo mettere fuori tutto che abbiamo, buttarsi nei tiri, andare avanti e crescere come squadra. Quello è il nostro obiettivo e così potremo anche vincere anche il Klagenfurt. Sì, sono soltanto il top team in the league, abbiamo alcuni buoni giocatori, dobbiamo trovare un modo di rinforzare e andare avanti. Sì, questo era ieri e oggi è un nuovo giorno e domani sarà un nuovo giorno, quindi dobbiamo portare questo per il gioco. Grazie. 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 Grazie.